Ciao popolodinerdando.com da parte di Giando. Oggi unboxing di una delle ultimissime uscite targate Culmini or Not Asmodi d'Italia, parliamo di Bloodborne, il gioco da tavolo, ad opera di Michael Scheinle e Eric M. Lange. Eric Lange che conosciamo per capolavori quali The Others, Rising Stun, Blood Rage e così via. Allora andiamo subito ad aprire perché come potete guardare dalla scatola si tratta davvero di qualcosa di enorme e grande, più di quattro dita e come vedete ci sono ovviamente miniature essendo questo un titolo Culmini or Not che appunto si basa sul famoso videogioco Bloodborne uscito per Playstation 4 qualche anno fa che ripercorre le avventure, le ambientazioni del videogioco. Ecco vi faccio già vedere da qui una carrellata delle miniature come potete vedere, questo è il regolamento, come dire tante pagine però insomma anche molto ben descritto. La lore di questo gioco è completamente preservata e notate infatti come il gioco stesso ci dà il benvenuto chiamandoci cacciatori perché in questo videogioco ci sono i cacciatori. Ora apro questa scatola qui e andiamo a vedere che cosa contiene. Allora andiamo a vedere subito quindi tutte le miniature contenute in questo box di cartone. Apprezzo il fatto che siano tutte qui dentro perché a volte quando ci sono mille box può essere un po' difficile poi ricordarsi come rimettere a posto la scatola. Qui invece abbiamo un'altra situazione. Estraggo ed ecco in tutto il loro splendore le miniature. Allora iniziamo con queste guardate e tra queste notiamo subito le quattro miniature colorate diversamente che rappresentano i quattro personaggi. Bellissima la suora con il giga spadone. Ovviamente per chi conosce il gioco potrà riconoscere da subito le famose lame del cacciatore. Eccolo qua vedete? Le miniature che ovviamente vedrete meglio magari nel nostro foto unboxing sono comunque estremamente dettagliate veramente veramente carine. E anche qui chi ha voglia di dipingere troverà pane per i suoi pennelli. Guardate che bello. Poi non c'è la faccia ma è normale perché non c'è da avere. Ecco qui. Poi passiamo ai pezzi grossi e qui vediamo tanti nemici più grandi. Guardate che bello questo che ci lancia dei mattoni perché si sa a Yernam sono tutti fratelli. Qui abbiamo questi sorte di lupi mannari o qualcosa del genere che di certo non ci lasciano tranquillissimi. Poi abbiamo anche delle creature veramente spettacolari. Guardate qui che belle miniature. Come ci insegna la tradizione culmina or notte. Ecco qui abbiamo un altro nemico accucciato. Bellissimo. Abbiamo ovviamente gli abitanti del villaggio che si ritrovano tutti assieme per cercare di ammazzarci. Questi simpatici alfieri della morte. Bellissimi. E infine quello che sembra essere decisamente il più cattivo di tutti. Guardate che bello. Che livello di dettaglio. Pazzesco. Veramente molto molto bello. Benissimo. Adesso come per magia torniamo all'unboxing della scatola. Proseguendo con il resto dell'interno della scatola abbiamo classiche fustelle dove ci sono una marea di segnalini. Eccoli qui tutti quanti. Andiamo a vederli. E poi abbiamo quelle che sono effettivamente le plancette che ovviamente si smontano ma è il bello della diretta. Le plancette per spostarci quelle insomma dell'ambientazione. Eccole qui. Come potete vedere ce ne sono veramente tante. Ognuna ha un nome. Ci sono dei loghi. Perché giustamente nel corso della nostra esplorazione andremo da in base alla missione e alle campagne che giocheremo a dover esplorare appunto zone della città antica di Yarnam e non solo. Ecco qui. Queste poi ovviamente ve le farò vedere in maniera più approfondita nel nostro unboxing fotografico sulla pagina Facebook. Come vedete c'è veramente tanta bella roba. Ecco qui. E poi iniziamo con altra plancia. Ecco qui quella del sogno del cacciatore. Ci sono anche nemici. E il retro in questo caso non presenta niente di che. Un foglio bianco che separa i componenti. Ed abbiamo quindi poi l'organizer all'interno del quale troviamo gli altri componenti fondamentali del gioco. Ossia le planche. Ognuna per cacciatore. Come potete vedere c'è un colore diverso in cima che giustamente ci identifica i diversi giocatori e i diversi cacciatori che potremo utilizzare. E poi guardate che bello all'interno abbiamo queste che sono appunto le planche. Anche queste con i quattro personaggi che potremo utilizzare e anche i colpi delle varie armi che ci sono. Come potete vedere sono doppia faccia. E poi andiamo subito a vedere il bellissimo organizer che c'è dentro. Perché comunque ci sono tanti materiali. Abbiamo visto prima tra segnalini e così via. E quindi qui abbiamo poi tutte le postazioni dove inserire anche le carte. Perché questo gioco, piccolo spoiler, non ha dadi ma ha tante 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 carte. Ok. E quindi abbiamo queste qui. Le carte delle varie missioni e così via. Io adesso non le aprirò tutte quante proprio per evitare sostanzialmente spoiler. Però come potete vedere abbiamo gli oggettini. Poi anche ecco qui altre cartine. Ce ne sono veramente tantissime. A me poi piacciono un sacco queste piccoline. Mi ricordano sempre giochi ai quali sono molto affezionato come le case della follia. Come potete vedere anche queste che sono sicuramente carte per l'attacco e così via. Poi abbiamo delle carte azione nemico. Ecco qui con esempio dei colpi, morsi. Insomma è dura. Poi abbiamo altre carte. Ecco qua queste delle armi e altri direi decisamente mostri. E poi abbiamo qui le quattro campagne. Anche qui eviterò di spoilerare andando a farvi vedere esattamente il contenuto. Come potete vedere abbiamo quattro campagne. La caduta di Old Yharnam. Poi Pazzia Crescente. La lunga caccia. E infine i segreti della chiesa. ecco qui. Come potete vedere veramente tanta roba. Bene. Allora concludiamo qui l'unboxing di Bloodborne, il gioco da tavolo. C'è veramente molto da giocare e da scoprire in questo titolo e vi rimando sul nostro blog per la recensione completa del gioco, sulla nostra pagina Facebook per l'unboxing fotografico e soprattutto vi invito a seguire tutti i nostri canali social come quindi Instagram, Discord, Twitch, il canale YouTube e poi ovviamente mi raccomando leggete sempre il blog e tenetevi aggiornate sulle nostre ultime novità. Qui ci salutiamo. non mi resta che dirvi di passare tempo nerdando e darvi appuntamento alla prossimo unboxing. Ciao!